Ciao a tutti, ecco, primo giorno di Lido Positano e abbiamo un bagnino che è di San Valentino Torio regolarmente registrato. Come ti chiami? Benile Vassolo. Come ti trovi qua a Positano? No, è il primo giorno benissimo. Benissimo, bello, il giorno del Santo Patruno, è aperto il Lido Positano, abbiamo un bagnino professionale. Non possiamo far altro che augurarti buon lavoro e a tutti i posidanesi di godersi l'estate quando più possibile. Guardate, siamo strategici.